John Borno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi sono qui per parlare del discorso Caldara-Bonucci-Guain E che vedrebbe appunto interagire fra loro le due compagini Juventus e Milan Perché faccio questo video? Perché avevo un po' voglia di parlare Però attenzione, se andiamo a leggere articoli, affermazioni di testate giornalistiche C'è tutto e c'è niente Ci sono smentite da una parte e da un'altra Quindi sicuramente sotto studio ci saranno un sacco di sick Però in realtà è così, sick, però in realtà è così Io ovviamente ho cercato di unire un po' tutte e di provare a parlarne A parlarne, semplicemente a parlarne Allora, qual è il discorso primario di cui già avevo parlato giorni fa? Allora, Bonucci vorrebbe andare via dal Milan E si sarebbe offerto, per quanto riguarda l'indiscrezione di mercato Già a gennaio alla Juventus La Juventus che a gennaio ha cortesemente declinato Adesso però con la squadra che la Juventus sta facendo Bonucci potrebbe essere reintegrato Perché? Perché Benatia è molto forte e non lo metto in dubbio Chiellini comunque ha abbastanza anni Non so se ce ne ha 33, 34, quanti ne ha Però insomma non ne ha pochi Non che Bonucci sia giovane Però Rugani si è dimostrato inferiore alle aspettative Ovedes ha fatto cagare Barzagli ha un piede e mezzo nel ritiro E mezzo piede in Serie A Quindi capite bene che ormai bisogna anche guardarsi intorno Caldara è appena arrivato La Juventus forse ha fatto questo pensiero Ha detto va benissimo Cristiano Ronaldo però se vogliamo vincere la Champions Forse ci servono difensori Anche difensori capaci e esperti che le possano giocare tutte E magari riportare il trio Bonucci, Barzagli e Chiellini E magari sostituendo Barzagli con Benatia di tanto in tanto Quindi riportando comunque un'ottima BBC Secondo me la Juventus avrebbe ancora più possibilità di quelle che già ha Di riuscire ad alzare la grande Coppa al cielo Allora qual è il discorso però? Bonucci è un giocatore del Milan Lo stesso Milan che è interessato ha parecchi giocatori della Juventus ovviamente Perché la Juventus essendo la squadra che vince da ormai tantissimi anni in Italia Ha tanti giocatori che al Milan potrebbero far gola Specialmente a Leonardo Il primo di cui si era parlato era Higuain Si parlava di un Bonucci più conguaglio economico per Higuain Cosa succederebbe però? Succederebbe che il Milan rimarrebbe nel caso questo accadesse Senza alcun difensore centrale Cioè avrebbero Magnoli e basta a livello di titolarità Quindi diciamo il Milan è andato a pensare al possibile ingaggio di Caldara In un primo momento pare che la Juventus non abbia voluto nemmeno parlare della cessione di Caldara Però già ieri si parlava di un affare che secondo me dico la verità Ci guadagnerebbe da 10 il Milan e da 4, da 4, da 4 la Juventus Perché? Si parlava di uno scambio secco Bonucci-Caldara E Higuain in prestito al Milan Con magari diritto di riscatto Oggi pare che lo scambio secco sia stato smentito Anche perché sembra che la Juventus qualora questo si faccia Voglia dividere le trattative e contarle appunto come un acquisto e una cessione Quindi nessuno scambio Però di contro diciamo che secondo me la Juventus fa bene a guardarsi un attimo intorno Perché? Perché è vero che Bonucci secondo me in questo momento è molto più forte, molto più esperto di Caldara Però ragazzi è anche vero che Bonucci c'ha 31 anni Mentre Caldara è giovanissimo e poi gli dà i guaini I guaini in prestito a che pro? Cioè perché darebbero i guaini in prestito? Perché uno se toglierebbero lì pesante ingaggio di 8 milioni e mezzo di euro Anche perché al solito non trova spazio E due sarebbe un motivo in più per convincere il Milan a ridargli Bonucci Però mi sembra un po' una cazzata quando tu vendendo i guaini potresti tranquillamente Farci molti più soldi di quelli che appunto faresti con il Milan Quindi praticamente zero A me sinceramente sembra assurdo Fra le altre cose pare che in questi giorni il Chelsea si sarebbe inserito in questa trattativa Offrendo e questo per me ragazzi potrebbe essere un movimento di mercato Che sarebbe la svolta decisiva per tutte e tre le compagini Milan, Juventus e Chelsea Perché? Perché il Chelsea avrebbe per quanto riguarda diciamo le indiscrezioni Chiesto alla Juventus I guaini e i rugani per Morata e 60 milioni di euro Quindi facendo un breve calcolo Valuterebbe circa Forse i guaini più di Morata Quindi un I guaini lo valuterebbe 70 milioni Un Morata lo valuterebbe sui 40 milioni O forse un Morata lo valuterebbe 50 milioni E i guaini lo valuterebbe 70 milioni O ancora meglio I guaini lo valuterebbe quanto l'hanno pagato Quindi 90 milioni Un Morata 70 milioni E poi andrebbero a pagare 40 per Rugani Quindi si parla di queste cifre Che ovviamente vanno prese con le pinze Però a parte questo La Juventus con il conguaglio economico Potrebbe tranquillamente andare a prendere un giocatore Che magari gli fa anche comodo in mezzo al campo Di cui tanto si parla Ora c'è Piange, c'è Mreciano La Juventus non ha bisogno di questo sborso economico Però qualora volessero prendere questo giocatore Qualitativamente importante in mezzo al campo Avrebbe la possibilità di farlo con 60 milioni di euro Scambiando poi Caldara direttamente con Bonucci Il Milan prende Caldara e fa la coppia Caldara-Romagnoli dietro La Juventus da questa trattativa perde i guaini e Rugani Cioè perde i guaini, Rugani e Caldara Tra Chelsea e Milan Prende però Bonucci e Morata E secondo me insomma si dice perde magari in fase di difensiva Ma ci guadagna in fase di difensiva Perché? Perché in fase di difensiva si rafforza Ma nel futuro perde tantissimo Bonucci 3-4 anni e poi ha finito Però davanti i guaini ha 31 anni, 32 anni Quanti ce n'ha Morata? Ragazzi è molto giovane Di contro avresti anche i soldi E la possibilità di spendere sul mercato Qualora volessi un altro difensor centrale Ma dubito Oppure qualora insomma volessi cercare di portarti a Torino In un centrocampista centrale Di contro il Chelsea avrebbe i guaini Che è appunto quello che chiede Sarri Dopo aver preso anche Giorginio E avrebbe anche appunto Rugani che è il difensore centrale Che vorrebbe il Chelsea È vero, è vero La Juventus perderebbe tantissimo A cedere sia Rugani che Caldari in ottica futura Però ragazzi la Juventus sta facendo squadra Che vince Mo Gli ha frega più niente di vincere in futuro Vuole vincere Mo Vuole vincere adesso E questo per me conta tantissimo Sia per l'intenzione della Juventus Di vincere adesso Ma soprattutto per l'intenzione dei giocatori La Juventus fa e riprende Rugani Fa e riprende Caldara Magari mettere delle recompre Questo sì Cioè nel senso scambio secco Bonucci Caldara Però qualora lo volessi riprendere Ti pago 50 milioni e me lo riprendo 55 Questo sì Con il Chelsea Va bene facciamo la vostra trattativa Però visto che me l'hai valutato 40 Ti pago 55 Entro 3 anni e me lo riprendo Questo lo puoi fare Secondo me andrebbero così a guadagnarci tutti Ma se si facesse Lo scambio di cui si parlava ieri Quindi Iguain in prestito E scambio secco Caldara-Bonucci Per me è una cazzata Se la Juventus dovesse mettere sul piatto Caldara e Iguain Scusate Caldara e Iguain Dovesse mettere sul piatto la Juventus Dando Bonucci Il Milan dovrebbe spendere almeno altri 60-70 milioni di euro Perché per me Iguain 60 milioni li vale Caldara 40 milioni li vale Vogliamo mettere che Vogliamo mettere che Bonucci vale 40 milioni come Caldara? Sì ci sta Quindi scambio secco A livello di scambio Questi 70 milioni Facciamo lo sconto 60 Ma pensare ragazzi Che questa possa essere una trattativa in prestito A me mi sembra una paccata L'ho detto Poi se la Juventus volesse appunto incassare quei soldi dal Chelsea Fare quello scambio In quel caso quei soldi potrebbe anche spenderli per un centrale di difesa ancora più forte In prospettiva ancora più giovane Magari va a puntare su un'untiti Che magari per 60 milioni forse te lo danno E quindi a quel punto tu prenderesti con quei sassi Cioè vendendo nel toto Tra una squadra e un'altra eccetera eccetera Vendendo Caldara Rugani e Iguain Te porteresti a casa Morata Bonucci E un titi E qua il discorso cambia Per me la Juventus si rafforza Il Milan si rafforza Il Chelsea si rafforza L'unica che ne verde è il Barcellona però Davanti a 60 milioni di euro Per un centrale ragazzi Che è molto forte Molto forte Però Non è Sergio Ramos Insomma Penso che te intenderebbero un po' tutti Ma Ma Io la mia ve l'ho detta Adesso Dovete farmi sapere la vostra Qui sotto nei commenti Io vi ringrazio come sempre per la visione Se vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace In caso di contare un dislike Vi invito come sempre A passare su tutti i miei social Washa la la Vado a farmi una doccia E noi ci vediamo come sempre ad un prossimo video